musica 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 ok che giorno è oggi? oggi è il... forse che non lo so è il 16 credo ok oggi dovrebbe essere il 16 gennaio e oggi c'erano 42 gradi 43 gradi 10 minuti fa è cominciato a piovere guardate cosa cazzo sta succedendo eravamo in macchina stavano attraversando la ferrovia un fulmine ha colpito la ferrovia me la sono fatta addosso si sentiva tutto il terreno fare questo nell'arco di 10-15 minuti assurdo assurdo no 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 famici mettere il piede vai che profonda guarda grande vabbè a questo punto mi toglierai le scarpe se no si rovinano ok e bagliamo sotto la pioggia perchè anche così ma così si sta bene non fa caldo ci siamo persi il video però della tempesta dei fulmini peccato non vi abbiamo fatto vedere i fulmini ok l'ombrello non serve a niente praticamente serve anche perchè non è aperto bene ah ok va bene ci salutiamo un saluto dalla Melbourne aiuto ahhh è stato un saluto